Vediamo assieme l'elenco datato delle incursioni alleate e dei sabotaggi partigiani durante la seconda guerra mondiale a Treviso sulla ferrovia Ostiglia-Treviso. 7 aprile 1944. Bombardamento da parte del 463 Bomb Group. 35 aerei inviati, uno perduto. Danneggiati lo scalo merci, vagoni merci, il fabbricato viaggiatori e lo scalo ferroviario Treviso centrale. 20 aprile 1944. Bombardamento da parte del 449 Bomb Group. 11 Liberator colpiscono lo scalo ferroviario Treviso centrale. 1 maggio 1944. Mediante l'azione numero 15 di sabotaggio, il battaglione autonomo Garibaldi, Bruno e Rino Chiarello, in prossimità della stazione Treviso centrale e del Cavalcavia, ha interrotto tutti i collegamenti telefonici in più punti con asportazione di 300 metri di filo. 6 maggio 1944. Mediante l'azione numero 17 di sabotaggio, il battaglione autonomo Garibaldi, Bruno e Rino Chiarello, alla stazione Treviso centrale e nelle vicinanze del Cavalcavia, ha asportato 150 metri di filo da una linea telefonica militare. 16 dicembre 1944. Due partigiani della divisione Montegrappa, in collaborazione con un ferroviere, sono riusciti a mettere una carica esplosiva ritardata in una locomotiva alla stazione Treviso centrale. Un'ora dopo, durante la corsa, all'altezza della stazione Treviso-Porta Santi 40, la carica è esplosa, mettendo fuori uso la locomotiva. 31 marzo 1945. Il 454esimo Bomb Group USAF colpisce lo scalo ferroviario Treviso centrale, interrompendo le linee ferroviarie. A corredo dell'elenco che vi ho appena letto, abbiamo varie foto, sia della stazione e dello scalo Treviso centrale distrutti, sia foto aeree dei bombardamenti. Termino il video con l'estratto di una cartina che, nella sua interezza, mostra la situazione in Italia dei danni ai depositi locomotive al 30 giugno 1951, scusandomi per la scarsissima qualità di questo documento. Come vediamo, seguendo la leggenda, per Treviso il simbolo indica che il deposito locomotive per tre quarti era stato danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale, ma poi ricostruito o rimesso in efficienza, mentre per un quarto non era stato danneggiato. E con l'elenco delle fonti, vi ringrazio per l'attenzione.